Non si ferma più Bitcoin che ancora una volta nella giornata di oggi sta pompando alla grande, nuovo All Time I, ormai fa All Time I ogni giorno, ci sta abituando a questa nuova modalità e si sta dirigendo verso un differente livello di resistenza, che è un livello di resistenza di natura psicologica che non possiamo appunto definire come resistenza tecnica perché non ci sono più prezzi a fare resistenza a Bitcoin. La notizia dell'elezione del presidente Trump con le sue anche dichiarazioni hanno più volte indicato la strada per questo rialzo dove Trump ha più volte detto che l'America diventerà il più importante centro mondiale crypto-friendly e questa è una notizia incredibile che non colpisce solo Bitcoin ma anche le altcoin, ma per le altcoin ragazzi ne parleremo domani in un video dedicato. Oggi sono ancora in viaggio, sto registrando in situazioni di emergenza ma non volevo riusciarvi senza questo update perché siamo 85.600 dollari, è iniziata la fase finale, quella fase di euforia che chi come me è dai mercati da tanto tempo conosce a memoria ma bisogna essere estremamente preparati in questa fase e ancora una volta non farsi prendere dalle emozioni molto facili ma i numeri sono assolutamente incredibili il breakout del super livello di resistenza a circa 73-75 ha dato spazio a questo movimento estremamente importante bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video facciamo analisi ciclica, analisi tecnica oggi in maniera molto breve con questo update velocissimo ma volevo darvi anche una notizia importantissima perché inizia anche per noi quella che è la settimana il mese di novembre, il mese delle offerte ma soprattutto una altseason 25 giveaway ragazzi che adesso vi racconto un po' allora trovate nel link in descrizione il link di Bybit per registrarsi a questa super promo che ovviamente riguarda i classici 500 dollari di position airdrop con il future vi registrate e gratuitamente vi danno questi 500 dollari che ovviamente con questa pump attuale ragazzi sono assolutamente ghiotti perché ok sono in leva ma insomma con i pump che sta facendo bitcoin o le altre altcoin quindi potete effettivamente fare profitti interessanti ma ogni settimana da partire da oggi fino alla fine del mese di novembre faremo un altseason 25 giveaway che sarà un airdrop di 250 dollari questa volta prelevabili direttamente quindi un super bonus non è un future non è un'apertura di un diciamo di posizioni in opzioni e sono ovviamente un airdrop di tether quindi di dollari prelevabili o utilizzabili anche per fare i vostri acquisti di trading ogni lunedì alle ore 18 fino al lunedì successivo dalle ore 18 verranno raccolti tutti gli uid di chi si registra dal link che vi lascio in descrizione quello di Bybit e poi ogni lunedì alle ore 20 sul nostro canale telegram che trovate sempre in descrizione gratuito comunicheremo il risultato del vincitore sarà un'estrazione per 4 settimane ragazzi fino alla fine del mese di novembre per 1000 dollari totale di airdrop immancabile l'unica cosa che dovete fare è iscrivervi con il KYC almeno di primo livello quindi ricapitolando come partecipare iscrivervi all'exchange di Bybit dal link che vi lascio in descrizione dove già prenderete 500 dollari di position airdrop in future e poi semplicemente parteciperete in maniera automatica a quella che è questa giveaway questa lotteria che verrà comunicata lunedì ogni lunedì alle ore 20 sul canale telegram con l'UID del vincitore che vince 250 dollari a settimana ragazzi di bonus e prelevabili quindi insomma sono un grandissimo risultato non fatevi scappare questa occasione ragazzi va bene allora andiamo a vedere quello che riguarda analisi ciclica di Bitcoin incredibile questa fase rialzista eravamo nella fase del mensile vi avevo anticipato che la soluzione più probabile non era questa del rialzo ma era bensì quella che il mercato sarebbe andato a chiudere un classico mensile normale facendo barra di congestione laterale ribassista per poi fare questa spuntone rialzista ma ovviamente previdente e conoscendo insomma anche un po' come si va a comportare Bitcoin sostanzialmente in alcune situazioni vi avevo anche anticipato che c'era la possibilità che su questo minimo potesse iniziare un nuovo ciclo mensile a parte insomma ecco ragazzi sembrerebbe essere stato proprio questa l'intenzione di Bitcoin cioè probabilmente qui siamo di fronte a una nuova struttura di natura trimestrale iniziata intorno alla zona del 10 ottobre però non mi voglio dilungare su queste analisi di lungo periodo perché voglio ragionarci un po' di più sono stato fuori veramente tanti giorni perciò non sono riuscito a fare delle analisi estremamente approfondite da questo punto di vista mi servono un paio di giorni quindi non voglio darvi informazioni che poi magari cambio perché non mi piacciono più di tanto quindi possibilmente diciamo così qui dovrebbe essere iniziato un nuovo trimestrale che a questo punto potrebbe assumere la forma di natura classica ternaria da navicella spaziale e fare questo tipo di logica in sostanza questo significa che dal minimo del 4 di novembre minimo assolutamente delicato e assolutamente difficile da gestire tant'è vero che anche una delle mie strategie è stata stoppata in hunting e poi è dovuta rientrare sul candelone verde e ha buttato fuori tanta gente quindi ci può stare anche una chiusura di un ciclo mensile da questo punto in poi e da qui potrebbe essere iniziato appunto un nuovo ciclo mensile che è appena alla fase iniziale questo lo scopriremo solo nel momento in cui questa corsa senza freni di bitcoin si fermerà e allora solo allora a quel punto avremo una fase di comprensione anche delle strutture cicliche al momento in ogni caso quello che conviene fare è seguire quelli che sono i cicli più piccoli qui siamo a 7 giorni probabilmente magari domani o dopodomani andrà a chiudere un ciclo di natura settimanale con una leggera non dico flessione ma magari pressa di respiro o magari una candela rossa perché siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele verdi consecutive niente di strano ma quali sono i prossimi livelli che dobbiamo assolutamente monitorare un livello che mi interessava tantissimo e che oggi non riesco a spiegarvi è intorno agli 86 mila dollari cioè questo livello qui ragazzi il successivo è un livello di resistenza di natura psicologica che sono i 100 mila dollari di bitcoin che è assolutamente un livello psicologicamente importante ma che da un punto di vista tecnico non ha alcun tipo di rilievo questo ve lo dico in maniera chiara perché in sostanza il punto d'arrivo in price discovery di un mercato lo vediamo solo esclusivamente considerando quelle che sono le estensioni di volatilità di questa cosa ne parleremo un po' più approfonditamente soprattutto andremo ad utilizzare alcuni grafici legati per esempio a quelli che sono gli eccessi di rialzo e quindi non più la questione legata ai target finali bensì agli eccessi di rialzo vi ribadisco come abbiamo fatto un po' io insomma anche altre persone veramente in tutta Italia negli ultimi mesi che questa burrana poteva avere in effetti grandi prospettive e al momento così sembra poi che da qui arriviamo a 2 milioni di dollari di target ragazzi io non ragiono in questo modo quindi ve lo dico probabilmente questa fase di hyperbull finirà tra qualche giorno per poi respirare e poi decidere il da farsi da un punto di vista tecnico guardate il grafico di natura invece settimanale come si sta andando a sviluppare con probabilmente un ciclo annuale di bitcoin iniziato su questo livello del 2 settembre come io prediligo insomma rispetto al resto e qui in pratica siamo solo all'inizio di questo pump del ciclo annuale che dovrebbe andare poi a uniformarsi a una struttura più importante che è una struttura di natura diciamo così pernaria che potrebbe essere appunto chiusa a maggio barra luglio del 2025 e quindi trovare la sua fase di massimo a livello ciclico in questa zona temporale ragazzi questa zona temporale qui questa zona temporale va in pratica da fine novembre i primi di dicembre fino secondo me a marzo del 2025 che è quella la zona temporale che dovremmo attenzionare perciò mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale condividete anche questi video con chi pensate possa beneficiarne e non vi perdete insomma questa grande corsa perché tra le altre cose parleremo anche delle criptovalute e come abbiamo fatto anche la scorsa volta se riuscirò ritorneremo alla programmazione di un video al giorno proprio per affrontare diversi temi quando sarà necessario al momento le posizioni restano tutte a favore di trend anche tutti i miei trading system sono long a favore di trend ovviamente io sono un trend follower quindi i trend system con questi rialzi abnormi restano tutti a favore anche quando escono che prendono profitto poi rientrano in pratica a prezzi magari anche un po' più alti però rientrano in ogni caso perché sono sistemi di trend following attenzione al raggiungimento di questo nuovo livello di resistenza vediamo se bitcoin ha voglia addirittura di spingere ulteriormente dopo questa fase fatevi sapere anche voi cosa state facendo e soprattutto oggi è nata la nostra newsletter la cripto letter del canale trading on chi si è registrato al nostro sito sulle nostre mail ha ricevuto questa mattina questa bella sorpresa è qui che trovate proprio sul portale trading on.it l'accesso quindi nome e mail per registrarvi ma perché dico ha ricevuto questa sorpresa perché in questa email del lunedì arrivano anche le analisi con tre delle criptovalute che noi riteniamo più importanti che possono avere diciamo un esploat nella settimana con indicazione anche di quelle che sono i livelli di resistenza che i livelli di supporto e in questo caso proprio l'operazione su doge indicata in questa newsletter non ha avuto neanche il tempo di essere inviata perché era andata in pratica già a target cioè era arrivata al livello di resistenza ho pubblicato anche un post su telecana per spiegare la cosa quindi se vi interessa anche la cripto letter per restare sempre aggiornati di avere mille informazioni anche perché lo useremo anche per dare e fare anche tante altre cose registratevi qui questa è una super news anche perché è completamente gratuita vi ricordo la super lottery al season 25 giveaway in atto nel mese di novembre per festeggiare tutti insieme questa bull run su bitcoin che secondo me si trasferirà a momenti in maniera massiccia anche sulle altcoin non vi fate scappare questa occasione registrarsi sul link di Bybit in descrizione che questi di livello 1 e bam 500 dollari da una parte e partecipare all'estrazione dei 250 che faremo lunedì prossimo se avete dubbi ragazzi anche in merito a quale altcoin volete inserire per esempio nella newsletter nella crypto letter della lunedì scrivetela nei commenti è una cosa nuova quindi dobbiamo prenderci la mano però se mi scrivete appunto quelle che secondo voi sono le crypto che vi interessano di più magari le inseriamo tra le varie analisi che facciamo in questa nuova crypto letter ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti